Cambio al vertice del centro Pecci. Lorenzo Binismaghi è il nuovo presidente della Fondazione per le Arti Contemporanea in Toscana. Stamani la presentazione ufficiale da parte della regione e del comune rispettivamente socio-sostenitore e fondatore dell'ente. 63 anni economista e in passato membro della BCE, Binismaghi ha anche una grande passione per l'arte. È stato infatti primo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi. Il connubio tra i due fattori, numeri e filantropia, lo hanno reso la figura ideale per guidare la nuova fase del centro dopo la ripartenza legata all'ampliamento degli spazi museali. Quella strana astronave dorata che ispira l'intervento del sindaco Matteo Biffoni sulla strategicità della nomina di Binismaghi rispetto alla maturità raggiunta dall'ente. È stato fatto un lavoro per mettere sulla rampa di lancio, per sistemare l'equipaggio, per mettere in condizioni di sicurezza tutta la struttura. Adesso l'auspicio, il lavoro, la volontà è far sì che si faccia il conto alla rovescia e poi si parta. Il comune mette anche quest'anno un contributo di 1.200.000 euro a cui si aggiungono gli 819.000 euro della regione, confermati anche per il 2020. Ciò che manca è un reale coinvolgimento dei privati ed è a loro che punta il nuovo presidente. Cercare di fare da moltiplicatore che più privati soprattutto di Prato, ma di tutta Italia, credano nel peci, portino il loro sostegno, il loro contributo, in modo da fare attività sempre più coinvolgenti, sempre più importanti e ridare quello smalto che il peci ha avuto e che progressivamente tornerà ad avere. Il resto del CDA che resterà in carica per i prossimi tre anni è composto da Gerardo Biagioni della Tessil Fibre, Edoardo Donatini, direttore artistico di Contemporanea Festival e membro del precedente CDA, Giacopo Gori della Giunti Editore e consigliere dell'Associazione Italiana degli Editori, Alessio Marco Ranaldo, imprenditore e presidente di Confindustria Toscana. In attesa di conoscere gli eventi espositivi del 2020, anno in cui riaprirà la parte didattica, la Regione conferma la sua attenzione per il peci, non solo in senso economico. Perché appunto diventi davvero quel centro di coordinamento del contemporaneo nella nostra Regione, ma anche oltre la nostra Regione. Resta però da gestire un vicino di casa piuttosto ingombrante, Palazzo Strozzi, il nuovo presidente, su questo punto è chiarissimo. Le collaborazioni saranno inevitabili, diciamo, sempre più importanti.